Ciao, sono Mario, vengo da Bergamo, è una vita che ho provato con i denti, più di 30 anni che sto attribuando, poi su Facebook ho visto SOS Turismo Utentale, ho voluto provare, ho chiamato e devo dire che ho avuto una bella sorpresa quando mi sono arrivato qui perché sono molto professionali, tutti gentili, bravissimi e mi sono trovato molto ma molto bene. Certamente l'ho già raccomandato a tanti miei amici che lo raccomanderò di sicuro a altri perché veramente sono bravi. Diciamo che i giorni passati qua li passi come passando a vacanza perché pochissimo stai in studio sotto i ferri, stai poco, quindi poi si gira, poi ti portano a fare le gite, è bello. Ho fatto amicizia con tante persone. Ah, fai l'annuncio, SOS Mario cerca l'amorosa. Adesso che c'è il numero, approfittate, è l'unica occasione. E al prossimo giro spero ritrovare anche l'amorosa.